Trovo che via Saragozza fuori porta sia una strada bellissima, a parte il senso del portico e poi quello che va su San Luca, però è proprio bella anche se ancora qualche bottega, qualche pasticcere che fa buone le sfrappole, questi angoli poi con le vie interne, via Udino, via Guidotti. Ma Saragozza, a prescindere dal fatto che è il portico più lungo, 3,5 km si va su a San Luca, ma è molto protettivo, ci si sente rassicurati, poi nascono negozi nuovi, qualche barettino, qualche cosa. Lo consiglio però molto di più non quando c'è il sole, ma quando c'è un po' di nebbiolina, quando c'è il clima più invernale, perché col sole, col sole sono buoni tutti. Che poi dentro porta, è bellissima, perché ci sono queste case sulla destra con questi colori proprio del rosso bolognese, ma anche giallo o rosa, molto vario, e ti dà un'idea quasi di casa, boh, veneziana, una casa tipo, non so, a me piace molto, anche perché sono questi, poi gli azzurri dietro, a parte la nebbiolina, ma anche questi azzurri così, dietro.